Abbiamo cominciato a parlare di OBI, osservazione breve e intensiva, anche a Vigevano. Siamo giusto in fase di progetto? Stiamo progettando di aprire un'area per l'osservazione breve e intensiva con il dottor Aitano, direttore sanitario, perché mancava all'interno del presidio del pronto soccorso di Vigevano questa osservazione, quest'area dedicata. Un'area che consente di poter avere una maggiore attenzione al paziente, poter valutare le sue condizioni cliniche e decidere se poi dimetterlo oppure mandarlo in un'altra struttura o ricoverarlo presso di noi. Il progetto si sta per valutare la possibilità di riadattare degli spazi attualmente assegnati al pronto soccorso in modo tale che si reperiscano questi sei posti letto di osservazione breve e intensiva. Abbiamo comunque già stabilito che ci sarà un'integrazione del personale rispetto al personale già in essere, il personale infermieristico di sei unità, questo proprio per garantire l'osservazione breve e questo consentirà anche un maggior turnover di pazienti, evidentemente anche nei reparti, con minor saturazione dei posti letto proprio perché quelle osservazioni che si attestano sulle 12-24 ore non vanno ad intasare i posti letto ordinari che altrimenti verrebbero essere ricoverati con pazienti più avuti e più, che necessitano di qualche giorno in più di degenza per intenderci. Grazie.